Agenti del commissariato di Noto al termine di un'attività investigativa hanno denunciato un uomo di 32 anni già conosciuto alle forze di polizia e appartenente a una nota etnia presente in città per il reato di danneggiamento aggravato in concorso. I noti hanno danneggiato un antico e prezioso capitello in pietra posto sulla scalinata del santuario Mariano di San Francesco all'Immacolata in Corso Vittorio Emanuele. L'edificio redigioso presente nel centro storico di Noto fa parte del patrimonio barocco della città. Il capitello, dopo che è stato divelto, è stato rinvenuto dagli agenti sulla seconda rampa della scalinata della chiesa. Gli investigatori diretti dal dottor Arena, avviate immediate indagini di polizia giudiziaria, hanno acquisito le immagini dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Dai fotogrammi i poliziotti sono riusciti a cogliere elementi indiziari utili per risalire all'identità dell'individuo che aveva commesso il grave atto vandalico. L'uomo, raggiunto dal personale di polizia, è stato denunciato per danneggiamento aggravato commesso su cose di interesse storico patrimonio dell'UNESCO.